Ma io partirei così, anche un po' improvvisando, proprio dall'introduzione che è stata fatta ora ora, perché la parola, il nome di Napoleone, in qualche modo serve a spiegare come in altri tempi le relazioni fra scienza e umanesimo, o fra la scienza e il resto del mondo, se così vogliamo chiamarla, fossero molto diverse da quelle che ci aspettiamo oggi. Napoleone non tutti sanno che in realtà si potrebbe chiamare quello che oggi viene definito un ingegnere, dico si potrebbe perché in realtà la scuola di ingegneria non c'era ancora, ma la fondò lui poi tra l'altro, quando arrivò al potere. E non solo, aveva come professori nella scuola d'armi, come si chiamava all'epoca, tra l'altro anche qui per esempio io sono a Torino, che è stata come tutti sapete la prima capitale d'Italia, e c'era l'arsenale militare dove moltissimi degli scienziati andavano a insegnare, perché i militari hanno bisogno della scienza, a meno che non vogliano combattere le guerre tirando le pietre o scappando o correndo dietro i nemici, hanno bisogno di armi. Quindi questo è un po' il lato oscuro della scienza, non è una cosa di cui gloriarsi moltissimo il fatto che la tecnologia scientifica serva anche nelle applicazioni militari. Però questo faceva e continua a fare anche ora, sì, che coloro che studiano appunto per diventare, tra l'altro ingegnere, la parola adesso, deriva sì da ingegno, ma il genio era anche proprio quello che si chiamava il genio militare. Cioè gli ingegneri erano in realtà l'applicazione della scienza alle arti militari. E dicevo, Napoleone ebbe come insegnanti due grandissimi matematici che erano Lagrange e Laplace, che Lagrange era, benché il nome faccia sembrare un'origine francese, era in realtà un italiano, veniva da Torino, si chiamava Lagrangia, Giuseppe Luigi Lagrangia, che poi emigrò in Francia e divenne Giuseppe Louis Lagrange. E noi abbiamo qui a Torino ancora la via Lagrange e la statua dedicata a questo grande matematico che appunto conobbe gli onori poi in realtà in Francia. E per tutta la vita Napoleone continuò a parlare con questi suoi due professori, a farsi fare conferenze di aggiornamento, come le chiameremmo oggi. E addirittura quando Laplace andò a raccontare a Napoleone il cosiddetto sistema del mondo, che era un po' la seconda versione di quello che Newton aveva fatto un secolo prima, nel 600, nei suoi principi a matematica, cioè come si vedeva il mondo attraverso i nuovi strumenti della scienza. E Napoleone stette a sentire con molta attenzione e poi alla fine, poiché il sistema del mondo ovviamente cercava di spiegare come era fatto l'universo, questi sono i modesti obiettivi che hanno gli scienziati a volte, Napoleone disse alla Laplace, dice ma non ho sentito nominare il nome di Dio però. E Laplace diede quella famosa risposta che poi passò nei libri di storia e gli disse, Sire, non ho bisogno di quell'ipotesi per spiegare il mondo. E qui si vede subito come in realtà già la scienza era partita con un piede, diciamo così, aggostico, addirittura ateo, nel senso che anche coloro che credevano lasciavano Dio fuori dalla porta quando facevano spiegazioni scientifiche. Napoleone addirittura fece un teorema, si chiama Teorema di Napoleone e adesso ve lo racconto, voi credevate di fare una conferenza sulle due culture? Questa è le due culture perché in realtà un politico, un imperatore che dimostra un teorema naturalmente non è l'unico caso, perché per esempio degli Stati Uniti ci fu un presidente degli Stati Uniti, uno di quelli minori che infatti si dilettava ad altro, che diede una nuova dimostrazione del teorema di Pitagora. Ma quello era un vecchio teorema ovviamente, si chiama di Pitagora non a caso e lui diede una dimostrazione diversa, però originale e molto carina. Mentre invece Napoleone trovò un teorema nuovo, il teorema dice la seguente cosa, una cosa divertente, voi prendete un triangolo qualunque, quindi non un rettangolo, non un isoscele, uno qualunque, come vi piace, e sui suoi tre lati costruite tre triangoli equilateri, cioè prendete un lato e fate il triangolo che ha quel lato come misura di tutti e tre i suoi lati. Lo fate su tutti e tre i lati di questo triangolo che è qualunque, poi prendete i punti centrali di questo triangolo equilatero, che sono il baricentro, l'ortocentro, eccetera, perché in un triangolo equilatero tutto coincide, li unite fra loro e benché il triangolo di partenza fosse qualunque, poteva essere molto lungo, molto paffutto, eccetera, il triangolo che ottenete unendo i centri di quei tre triangoli equilateri costruiti sui lati è sempre un triangolo equilatero. E se fate il contrario e i triangoli invece di metterli fuori li mettete dentro, ottenete un altro triangolo equilatero di dentro. E questo è un famoso appunto teorema che si chiama teorema di Napoleone, anche se non è poi ben chiaro se effettivamente sia stato lui il primo a farlo, eccetera, però capite che è strano, nonostante oggi abbiamo per esempio un presidente del Consiglio che è un tecnico, quindi insomma un economista, non credo che io sappia che ci sia un teorema di Draghi, meno che mai c'era un teorema di Conte o un teorema di Aldo Moro o così via, mentre invece in quel caso così. Ma stranamente Napoleone interviene anche in un'opera letteraria, e qui appunto sto cercando di far vedere come le due culture poi alla fine non abbiano dei confini ben definiti, in un famoso romanzo che qualcuno di voi avrà letto, non so se fino alla fine perché è un romanzo un po' lungo, però viene considerato il più bello romanzo che sia mai stato scritto a detta degli scrittori oltre che dei lettori, ed è niente meno che Guerra e Pace di Tolstoi. Napoleone è uno dei due grandi protagonisti politici ovviamente del romanzo, il quale si chiama Guerra e Pace, anche se poi dentro ci sono tutte le storie d'amore che noi ci ricordiamo e che in realtà poi si vedono quando si fanno i serial televisivi sul romanzo o i film sul romanzo. In realtà i due grandi contendenti sono Napoleone da una parte e lo Zara Alessandro dall'altra. Ora qui loro intervengono ovviamente come personaggi politici perché c'è questa storia che brevemente, la storia di Guerra e Pace è che Napoleone a un certo punto invade la Russia. È una storia bellissima perché Napoleone arriva al confine russo con 500.000 uomini, un esercito sterminato, entra nella Russia e i russi che non sapevano bene come fermare questa invasione esterna decisero di fare quello che si chiama oggi fare terra bruciata, nel senso letterale, proprio perché questa fu la tattica che seguirono. Cioè invece di affrontare l'esercito francese e cominciarono a indietreggiare sempre di più, però indietreggiando bruciavano i campi, impedivano praticamente alle coltivazioni di continuare, quindi i francesi entravano in Russia, andavano man mano verso la capitale, o meglio verso la città di Mosca e alla fine entrarono in Mosca e Mosca era deserta. Non c'era più niente, tutti erano scappati, si erano ritirati dentro le campagne ed era arrivato nel frattempo quello che i russi chiamano il generale inverno. Cioè cominciava a far freddo, cominciava a nevicare, i francesi non avevano da mangiare e quando Napoleone entrò in Mosca diceva che non è rimasto nulla qua. Cioè come è possibile? Sono scappati tutti. E in effetti rimase lì qualche settimana e poi alla fine non poteva altro che tornarsene a casa. Girarono i tacchi francesi e a quel momento i russi incominciarono a inseguire l'esercito francese e gli corsero dietro. E naturalmente l'esercito aveva fame perché non c'era roba da mangiare e quindi questi poveri francesi furono decimati, coloro che uscirono furono 30.000 dei 500.000 che erano entrati. Ora voi direte tutto questo cosa c'entra con la scienza? C'entra perché Tolstoi racconta questa storia ma la racconta da par suo non a caso poi è diventato il più famoso o forse più grande scrittore di romanzi della storia. La storia dei romanzi non è poi tanto grande perché sono due o tre secoli che il genere letterario esiste. E comunque Tolstoi che aveva una grande tenuta vicino a Mosca, a Jasna e a Poliana dove io sono stato, non quando c'era lui ovviamente, sono andato poi a visitarla come un luogo interessantissimo, una tenuta enorme dove lui ha scritto questo romanzo e dove però aveva servi perché all'epoca era ancora quello il periodo, aveva molti servi e servi proprio che lavoravano la terra che venivano insieme alla terra quando si vendeva la terra si vendevano anche i servi che erano in realtà degli schiavi ne più ne meno e lui però che era un personaggio illuminato faceva lezione a tutte queste persone, insegnava le varie materie compresa la matematica. Ora sarebbe un legame molto piccolo quello che va bene Napoleone è personaggio di Guerra e Pace e chi l'ha scritto insegnava matematica ai contadini ma c'è molto di più perché se voi state attenti quando leggete il romanzo Guerra e Pace il modo in cui Tolstoi racconta questa storia è un modo che è tutto intriso di metafore scientifiche per esempio dice i due eserciti si scontrano e quando c'è una battaglia che cosa succede? Boom! Battono uno contro l'altro e sono come due oggetti come due palline che sbattono e c'è un principio di azione e reazione quando arrivano naturalmente la forza dello scontro dipende dalle loro masse e dalla loro velocità eccetera e si capisce che Tolstoi pensa quando pensa appunto agli avvenimenti politici e bellici del suo romanzo pensa in termini matematici ma una delle più belle metafore che lui fa è quella del pendolo che ovviamente come sapete nella meccanica di Galileo era uno degli strumenti o degli esperimenti di pensiero più importanti perché è di lì che Galileo riuscì a tirar fuori le leggi appunto galileiane da cui è partita diciamo così la scienza moderna e allora che cos'è la metafora del pendolo? Voi sapete che un pendolo oddio le cose sono un po' approssimate ma così pensava Galileo se voi lasciate andare un pendolo da una parte questo pendolo risale fin dall'altra parte esattamente alla stessa altezza e poi ritorna indietro e così via continua ad andare avanti o meglio lo farebbe se non ci fosse l'attrito sia dell'aria che prima o poi smorza il movimento che del perno sopra che appunto contribuisce anche lui allo smorzamento però in teoria il pendolo fa così e allora Tolstoi dice c'era questo pendolo perché le guerre napoleoniche come le chiamavano i russi sono per l'appunto descritte matematicamente da un pendolo e questo pendolo per farlo partire bisogna alzarlo e lui dice è stato alzato il pendolo nel momento della rivoluzione francese quando ovviamente cade la monarchia il re viene ghigliottinato e questo pendolo è lì che incombe minaccioso e ad un certo punto qualcuno lo deve lasciare andare perché vada prenda il suo abbrivio e colui che lo lascia andare dice Tolstoi è proprio Napoleone che lascia andare questo pendolo e questo pendolo entra e che cosa fa? questo è l'esercito francese che entra in Russia e che cosa fa poi? entra in Russia praticamente quando è sulla verticale in un certo modo nella metafora e continua a salire finché arriva a Mosca appunto e ci sono le due città da cui parte cioè Parigi e la città da cui arriva e che cosa succede a questo pendolo? succede esattamente quello che la legge ci dice che ad un certo punto nel momento in cui arriva al punto dove era partito si ferma e ritorna indietro quindi la parte di andata è per Tolstoi l'entrata dell'esercito napoleonico nella Russia dell'epoca si ferma quando arriva nella città deserta di Mosca e poi ritorna indietro e infatti lo zaro Alessandro poi arriverà a Parigi e l'impero napoleonico in realtà poi fu distrutto anche se poi la storia è un po' più complicata di Napoleone quindi vedete come le metafore che Tolstoi usava il linguaggio con cui raccontava gli eventi che erano politici ma anche in realtà poi amorosi perché c'è di tutto in guerra e pace e il grande affresco della società dell'epoca era un linguaggio matematico ma c'è di più per questo prima scherzavo dicendo non so quanti di voi l'hanno letto e soprattutto quanti di voi sono arrivati alla fine perché il romanzo è lunghissimo sono 1500 pagine vabbè dipende dalle edizioni naturalmente come scritto piccolo eccetera però circa circa quello 1500 pagine e alla fine già ad un certo punto quando comincia la terza parte cominciano ad esserci discorsi di questo genere ma alla fine soprattutto nelle ultime 150 200 pagine Tolstoi inserisce dentro il romanzo che è un racconto appunto di tipo umanistico inserisce una specie di saggio matematico in che senso perché proprio perché lui aveva usato tutte queste metafore capiva che forse se voleva effettivamente dire quali erano le leggi della storia doveva usare una teoria che avesse a che fare con la matematica nello stesso modo in cui Newton appunto aveva usato la sua teoria per descrivere l'universo delle particelle inanimate mentre invece la storia è fatta da personaggi animati e che cosa dice Tolstoi voi siete dei liceali credo quindi almeno il concetto dovreste saperlo però forse lo sanno coloro che arrivano alla quarta o alla quinta gli altri lo impareranno Tolstoi dice attenzione però perché io vi ho distratto nel mio racconto andato avanti per migliaia di pagine e voi avete sentito raccontare di questi due grandi personaggi Napoleone e Alessandro però attenzione perché questo è una distrazione se Napoleone fosse entrato avesse passato il confine da solo senza avere dietro i 500.000 soldati francesi se fosse riuscito ad arrivare in quel caso non sarebbe riuscito perché appena passato il confine l'avrebbero fermato ma se fosse riuscito ad arrivare a Mosca e a Mosca nessuno avesse risposto scappando via dalla città eccetera la guerra si sarebbe risolta in un piccolo duello ci sarebbe stato il duello fra Napoleone e Alessandro come una volta si facevano le guerre quando voi leggete per esempio l'Odissea o meglio l'Iliade prima vi accorgete che i grandi personaggi si combattono a duello lui dice la guerra non è stata quella appunto 470.000 francesi sono morti in quel caso quindi dietro ai due condottieri c'erano delle grandi masse cioè gli eserciti francesi da una parte e l'esercito russo dall'altra ma poi questa guerra si è combattuta in Russia i contadini l'abbiamo detto hanno dovuto scappare i cittadini della capitale hanno dovuto uscire dalla capitale e questo significa che non solo c'erano le grandi masse degli eserciti ma c'erano masse ancora più grandi che erano la massa dell'intera popolazione e allora lui dice se io voglio raccontare la storia come è andata veramente non mi devo concentrare soltanto sui due grandi personaggi ma devo far capire a tutti quali sono stati i contributi di tutti quelli che hanno partecipato alla guerra e voi direte cosa c'entra la matematica qui lui dice e lo dice con queste stesse parole lui parlava russo naturalmente io non cito a memoria ma questa è l'idea di questo saggio lui dice in realtà ciascuno dei soldati sia russi che francesi ciascuno soprattutto dei cittadini russi dell'epoca ha dato un suo contributo naturalmente sono milioni di persone perché già mezzo milione era soltanto l'esercito francese milioni di persone che danno il piccolo contributo lui dice talmente piccolo che quasi se io seguissi una delle persone come poi fa perché poi la guerra ovviamente influisce anche sui personaggi che lui descrive all'interno del romanzo è un contributo infinitesimo e questo già incomincia ad essere un linguaggio tecnico e dice però come faccio a sommare dei contributi infinitesimi fra loro lui dice ah quando insegna ai contadini gli devo insegnare io non so che quando insegnasse ai contadini e che tipo di contadini avesse a scuola comunque dice gli devo insegnare quello che si chiama l'integrale l'integrale che è una somma di contributi infinitesimi una somma infinita di piccoli numeri che sono infinitesimi e allora lui dice questa nazione di integrale è quella che mi permette di definire la storia la storia e l'integrale dei contributi infinitesimi dato da tutti gli attori che hanno partecipato agli eventi storici e allora cosa c'è di meglio forse che questo esempio delle due culture dell'unione del matrimonio delle due culture il più grande romanzo di sempre che in realtà contiene un saggio che è un saggio di matematica che permette allo scrittore che è allo stesso tempo un letterato perché descrive le cose ma anche un filosofo se vogliamo che medita su ciò che scrive gli dà gli strumenti tecnici per permettergli di descrivere appunto quello che lui ha fatto e ha raccontato ora questo è un esempio e ve ne potrei fare fino a mezzanotte ma anche di più probabilmente mezzanotte non solo di questo giorno ma di altri giorni perché la letteratura è piena di cose di questo genere ci sono romanzi che parlano di matematica direttamente o indirettamente voi che siete giovani forse e adesso poi in realtà forse se siete proprio molto giovani come siete sotto i vent'anni forse non ve lo ricordate già più ma c'è un ragazzo che ormai è un uovo di 40 anni che si chiama Paolo Giordano che è uno scrittore famoso che ha scritto questo romanzo ormai una quindicina di anni fa 10-15 anni fa che si intitolava La solitudine dei numeri primi che vinse il premio strega ne vendete milioni di copie e lui era in realtà un dottorato in fisica anzi era un dottorando quando uscì il romanzo stava tra l'altro qui vicino a Torino nello stesso paesino dove abitavo anche io allora si chiamava San Mauro Torinese ci conoscevamo allora e io glielo dissi non lasciar perdere il dottorato che magari un giorno ti toccherà lavorare se spendi tutti i soldi che hai guadagnato con questo romanzo infatti lui finì il dottorato e adesso insomma si gode il diploma naturalmente appeso così ma quello è un esempio nostro recente in Italia grandissimi scrittori per esempio Musil che è uno dei grandi scrittori dello scorso secolo tedeschi che ha scritto un romanzo anche lui enorme delle dimensioni più o meno di guerra e pace anche se meno riuscito perché è un po' più cerebrale e poi soprattutto è incompiuto e il romanzo si intitola L'uomo senza qualità e beh il romanzo di Musil è L'uomo senza qualità è un signore che si chiama Ulrich e che di professione fa il matematico e naturalmente in questo caso Musil è meno propenso alla positività nei confronti della matematica lui che era un ingegnere fra l'altro anche lui diceva ebbè la scienza parla soltanto di una parte del mondo ma c'è l'altra parte di cui la scienza non parla che è per l'appunto l'umanesimo e allora c'è questa tensione fra le due culture e lui cerca di raccontarla in questo romanzo appunto molto travagliato in cui spesso e anche lì ci sono dei saggi dentro che sembrano saggi di filosofia della scienza e così via ho detto che Musil era un ingegnere e uno potrebbe pensare sì ma quella è un'eccezione invece mica tanto perché provate a pensare ai grandi nostri scrittori italiani contemporanei Carlo Emilio Gadda che era forse il più grande scrittore di metà novecento della seconda metà del novecento anche lui era un ingegnere abbiamo avuto dei premi Nobel noi in Italia di letteratura per esempio Quasimodo Montale beh Quasimodo aveva il diploma di geometra e non aveva nessuna laurea Montale aveva il diploma di ragioniere e non aveva nessuna laurea e lavorava in banca come ragioniere e hanno preso tutti e due il premio Nobel per la letteratura uno comincia a dire ma qui c'è qualcosa che non funziona come mai sono gli scienziati che scrivono o perlomeno coloro che hanno una formazione tecnico-scientifica che si mettono a scrivere e che poi però fanno i letterati e beh perché tutto sommato la risposta è alla domanda che mi sto facendo e vi sto facendo è perché la nostra è una società tecnologica e la tecnologia si basa sulla scienza così come nel Medioevo se uno voleva parlare della società dell'epoca doveva parlare di religione perché quella era il fondamento della società medievale e quindi se voi leggete Dante ci trovate dentro moltissima teologia per l'appunto anche più forse di quella che vorreste trovarvi perché diciamoci la verità quest'anno bisogna parlare bene di Dante perché è il settecentesimo anniversario però il paradiso santo Dio a leggerlo è una gran fatica infatti tutti parlano dell'inferno che è più molto più fumettistico e così via Dante non era affatto uno scienziato anzi se voi prendete il primo verso della Divina Commedia che tutti conoscete a memoria nel mezzo del cammin di nostra vita Dante parte nella Divina Commedia nel primo verso fa già un errore perché? e beh perché nel mezzo del cammin di nostra vita voleva essere lui dice la vita dura settant'anni e quindi a metà della vita 35 anni io Dante sono nato nel 1265 siamo nel 1300 che è l'anno in cui si svolge l'anno del primo giubileo tra l'altro con Bonifacio VIII a Roma si svolge questa divina commedia per l'appunto e io sono a metà della mia vita però se quest'anno festeggiamo l'anniversario della morte abbiamo capito che lui avrebbe dovuto morire nel 1235 e invece è morto nel 1321 quindi è interessante che il primo verso già contenga è un errore e poi gli errori dentro Dante sono una marea naturalmente perché la sua visione la colpa non è sua ovviamente lui parlava come uomo del suo tempo però la visione tolemaica dell'universo è una cosa che se lui non l'avesse descritta così bene con i suoi versi oggi più nessuno ne parlerebbe e invece è quasi un paradosso il fatto che per far sentire per far leggere i versi di Dante poi oggi noi siamo costretti a spiegare ai ragazzi il sistema tolemaico a spiegare la teologia scolastica eccetera che sarebbe bene invece che fossero dimenticate e passassero nel dimenticatoio tra l'altro visto che parliamo di matematica e umanesimo è molto interessante perché in Dante ci sono alcuni aspetti matematici che sono in realtà secondari però a volte non così secondari perché voi sapete benissimo che Dante scrive in endecasillabi ora cosa vuol dire endecasillabi uno dice lo dice la parola endecasillabi vuol dire che ogni verso ha undicisillabi e la cosa interessante è che non è vero perché endecasillabi non vuole affatto dire quello e uno dice ma come se lo dice la parola endecasillabi esattamente come un endecalogo non sarebbe un poligono con undicilati invece no la definizione ma questo ve l'avranno spiegato voi fate il liceo ma se aveste fatto magari un istituto tecnico non si sarebbero soffermati su questo in realtà la definizione di endecasillabo è un verso il cui ultimo accento cade sulla decima sillaba e uno dice ma come gli è venuto in mente di definire l'endecasillabo in questo modo è perché in realtà gli endecasillabi sono una parte della nostra poesia una struttura della nostra poesia italiana che deriva dalla poesia francese e la poesia francese faceva dei poemi che avevano dei versi di dieci sillabe e allora questi versi di dieci sillabe perché l'accento in francia in francese cade sull'ultima sillaba quando uno trasporta il decasillabo in italiano e quello diventa un verso in cui l'ultimo accento cade sulla decima sillaba e poiché in italiano quasi sempre ma quasi non vuol dire sempre quasi sempre l'accento sta sulla penultima ecco che l'endecasillabo in genere ha undici versi ma se voi leggete bene Dante e fate i conti quando leggete sulle dita vi accorgete che in Dante ci sono per esempio dei versi che sono decasillabe hanno dieci sillabe e ce ne sono di quelli che ne hanno dodici o tredici perché a volte ci sono accenti che stanno non sull'ultima ma sulla penultima addirittura sulla terz'ultima ed ecco che quindi anche qui si vede che se uno vuole effettivamente parlare di Dante prima o poi la matematica la deve mettere dentro e la scienza poi in generale perché abbiamo già citato il sistema tolemaico e così via quindi questo per dire che la separazione delle due culture è una separazione che uno può anche fare però è pericoloso farla e soprattutto se uno poi crede che siano due compartimenti stagni che si tengono diciamo così l'un contro l'altro armati e che non interagiscono fra loro si finisce di perdere un sacco di cose che poi alla fine in realtà stanno dentro perché i poeti e i letterati lo sanno e il discorso era partito dal fatto che molti letterati appunto Quasimodo, Montale, Gadda e così via siano letterati che però arrivavano da una cultura tecnico-scientifica Dostoievski che è l'altro grande scrittore russo dell'Ottocento Dostoievski era anche lui un ingegnere aveva fatto la scuola di ingegneria e lo sapeva benissimo e anche lui come Musil aveva reagito poi a questa impostazione tecnico-scientifica e infatti spesso nei suoi romanzi ci sono dei brani che sono legati alla matematica che è quello che interessa a me ma più in generale alla scienza e spesso anche in maniera un po' critica, un po' negativa ma finora abbiamo parlato solo di letteratura io non vado molto oltre tra poco mi taccio perché appunto vorrei che ci fossero domande e magari rispondere a cose che interessano più a voi che non quelle che dico io così perché interessano a me però se uno dalla letteratura poi si sposta in altre arti ad esempio la pittura beh la pittura se uno non conosce la matematica e la scienza più in generale va poco lontano soprattutto la pittura che è stata dipinta tra il 1416 e la fine dell'Ottocento perché 1416? Perché in quell'anno Brunelleschi, l'architetto Brunelleschi che fece la cupola della cattedrale di Firenze il cui campanile invece era stato fatto da Giotto in precedenza vedete come tra l'altro i pittori e gli architetti fossero poi due facce anche lì di una stessa medaglia quindi umanesimo la pittura ma architettura forse scienza perché altrimenti i campanili non stanno in piedi e tra l'altro forse questo dovrei dirlo che quando voi andate a Firenze in gita e guardate il campanile di Giotto vi appare come deve essere c'è quei due lati belli paralleli che vanno su un campanile molto alto che per lungo tempo fu uno dei record diciamo così dell'architettura il problema è che voi sapete appunto quello che Brunelleschi ha scoperto sempre lì a Firenze è sempre lì nei dintorni perché lo fece col Battistero invece lui la prospettiva ci dice che se due linee sono parallele quando noi le guardiamo ebbè queste linee se sono abbastanza lunghe sembrano convergere verso un punto, si chiama punto di fuga allora come fa il campanile di Giotto ad avere dei lati che appaiono paralleli se in realtà dovrebbero apparire così? ebbè perché Giotto sapeva che cosa succedeva anche lui non c'era bisogno che arrivasse Brunelleschi e il campanile è fatto in realtà così se uno lo guarda, se avesse per esempio un ascensore che gli passa vicino si accorgerebbe che i lati, adesso la cosa non è così palese ed evidente all'occhio però se uno va a vedere esattamente il progetto si accorge che i lati del campanile vanno così perché allora quando li si guarda di sotto sembra che vadano paralleli e si capisce che anche i pittori e gli architetti usano un sacco di trucchi per cercare di far vedere le cose come la gente le deve vedere sapendo che se le facessero in un altro modo si vedrebbero in maniera diversa e la prospettiva è nient'altro che dal punto di vista matematico quella che viene chiamata la geometria proiettiva è talmente nient'altro che spesso coloro che hanno sviluppato i trattati di pittura prospettica erano allo stesso tempo degli artisti, dei pittori ma anche degli scienziati e dei matematici Piero della Francesca, primo di tutti che fece uno dei primi trattati sulla cosiddetta prospettiva pingendi sulla prospettiva che serve ai pittori che in realtà è un trattato di teoria prospettica appunto di geometria proiettiva e così è stato per Dürer che poco dopo ha scritto agli inizi del Cinquecento un altro famoso trattato nei paesi di lingua tedesca e così via quindi ovviamente adesso questi sono solo due esempi che però poi potrete volendo sviscerare e approfondire con l'insegnante di storia dell'arte o nei corsi appunto più umanistici e da ultimo la musica Beh la musica uno potrebbe dire ma lì proprio la matematica non c'entra niente invece c'entra, c'entra al tocchè perché chiunque di voi abbia fatto una scuola musicale abbia imparato il solfeggio eccetera sa benissimo che in realtà la cosa fondamentale è contare addirittura c'è un famoso aneddoto di Albert Einstein che come voi sapete è stato il più grande fisico del Novecento e forse della storia insieme a Newton e Archimede insomma sono i tre grandi geni della scienza della nostra specie diciamo così e Einstein era anche un ottimo violinista non era un professionista ovviamente faceva un altro lavoro però essendo Einstein ovviamente incontrava un sacco di musicisti che era talmente famoso era un po' una rock star come si direbbe oggi all'epoca e gli capitava di suonare insieme a dei pianisti e facevano duetti e così via ed un giorno suonando con uno di questi famosi pianisti fece un errore e questo pianista si fermò lo guardò con l'aria torna e gli disse professore non sa contare detto a Einstein ovviamente da un pianista il che significa che effettivamente nella musica e anche lì ci sono un sacco di cose da contare a partire dal fatto che chiunque di voi abbia visto uno spartito sa che agli inizi di ogni spartito c'è una frazione due terzi, tre quarti, quattro quinti e così via spesso strani, sette ottavi eccetera e queste frazioni sono fondamentali per indicare qual è il tempo per capire esattamente quante note possono stare dentro una battuta e così via e la teoria matematica della musica a differenza di quella pittorica o di quella letteraria che insomma sono cose recenti perlomeno negli esempi che vi ho fatto la teoria matematica della musica risale praticamente agli inizi del pensiero occidentale perché è stato Pitagora a capire che c'è un legame fra matematica e musica un legame tra l'altro molto semplice perché se voi prendete una corda come quella di chitarra o di violino e la pizzicate questa fa un suono e se voi prendete la corda e la dimezzate e provate a pizzicarla vi accorgete che il suono è lo stesso solo che è più alto è quello che i musicisti chiamano un'ottava superiore e allora il rapporto 2 a 1 fra le lunghezze delle corde in realtà poi che è un rapporto matematico di grandezze fisiche in realtà poi si riflette nel rapporto armonico che c'è fra due note che sono la stessa nota ma a distanza di un'ottava e Pitagora andò avanti capì che se faceva il rapporto invece che 2 a 1 3 a 2 e allora lì veniva un rapporto diverso che è il rapporto di quinta do sol per esempio e se faceva 4 a 3 allora lì veniva il rapporto di quarta do fa e cercò di mettere numeri che corrispondevano a qualunque nota della scala eptatonica le 7 note poi si può estendere alle 12 note usando anche i semitoni e così via e di lì è partita tutta una teoria musicale che continua ovviamente fino al giorno d'oggi molta della matematica moderna è nata per rispondere a problematiche che derivavano dalla musica o dagli strumenti che si usavano per la musica per esempio le corde di cui ho parlato le corde di violino le corde di chitarra che vibrano e uno si chiede ma come vibrano qual è l'equazione che descrive il moto delle particelle che compongono la corda questa fu la prima equazione d'onda che fu fatta da D'Alembert altro esempio fulgido di coniugazione tra la scienza e l'umanesimo perché D'Alembert era insieme a Diderot uno dei due editori curatori della famosa enciclopedia quella che cambiò la storia della cultura occidentale più o meno nella seconda metà del Settecento D'Alembert era un matematico e fu lui a descrivere la prima equazione d'onda e oggi l'equazione d'onda più famosa è quella che si chiama l'equazione di Schrödinger che descrive il movimento delle particelle in realtà nella meccanica quantistica in un modo simile analogo a quello che D'Alembert aveva usato per descrivere il moto delle corde negli strumenti musicali vedete che sto saltando da un argomento all'altro ma proprio per farvi vedere che in realtà uno può passare da una parte all'altra cioè da letteratura pittura, musica cioè classici esempi di umanesimo a matematica, fisica, geometria eccetera che sono invece classici esempi di pensiero scientifico da dove nasce con questo concludo appunto questa introduzione da dove nasce l'opposizione tra le due culture purtroppo nasce in particolare in Italia nasce da due personaggi che erano due filosofi che si chiamavano Croce e Gentile tutti e due furono ministri dell'istruzione Croce fu ministro dell'ultimo governo Giolitti poco prima che arrivasse il fascismo e Gentile fu ministro del primo e ultimo governo Mussolini che durò vent'anni il più longevo governo della storia italiana ministri dell'istruzione ora come mai sono loro i responsabili i colpevoli di questa separazione fra le due culture perché erano due filosofi cosiddetti idealisti che odiavano tutti e due la scienza Croce diceva io non so nulla di scienza i miei critici credono che io ne sappia poco ma io ne so molto meno di quello che pensano loro e purtroppo queste erano loro opinioni che avrebbero potuto rimanere opinioni purtroppo il fatto che tutti e due fossero stati ministri dell'istruzione soprattutto il secondo il secondo fece una riforma della scuola che si chiama riforma Gentile che è cambiata poco perché ancora l'impianto rimane quello ed è cambiata poi col ministro Gelmini che adesso in questi giorni è ridiventata ministro dopo una decina d'anni e qual era l'idea di questa riforma che notate quando Mussolini la presentò al Parlamento disse di tutte le riforme che noi stiamo facendo questa è la più fascista no qual è la riforma fascista è la separazione delle scuole in licei da una parte e istituti tecnici dall'altra l'invenzione dei licei in realtà è una cosa che se voi andate all'estero come molti di voi avranno fatto forse nel quarto anno appunto della scuola superiore vi accorgete che non esiste se voi andate negli Stati Uniti andate alla high school e c'è un'unica high school naturalmente in una città come New York ce n'è più di una ma ciascuna high school è in realtà una scuola che offre tutte le materie gli studenti fanno già nella high school già nella scuola superiore quello che si fa all'università un piano di studi si scelgono le materie che vogliono a seconda delle loro propensioni dei loro interessi di quello che gli dicono anche i genitori magari che pagano le tasse e così via è solo da noi che bisogna a 13-14 anni fare una scelta e come la si faceva perché la divisione fra licei e istituti tecnici è una divisione che è ispirata dall'ideologia fascista cosa c'è di fascista in quello c'è quello che ovviamente Croce Gentile sapevano benissimo cioè che i licei erano pensati per i figli di coloro che comandavano e che avrebbero dovuto loro stessi comandare in futuro era la scuola dei dirigenti era una scuola classista per l'appunto o corporativista come si sarebbe detto all'epoca e che cosa dovevano studiare i liceali nulla intanto andavano a comandare si sa che chi comanda non lavora e quindi dovevano studiare i classici appunto quelli che interessavano a Croce Gentile cioè le odi di Pindaro la divina commedia e così via e invece quegli altri che sarebbero andati all'istituto tecnico quelli erano i lavoratori quelli dovevano studiare cose utili perché se poi uno va a fare l'idraulico o va a fare l'elettricista o va a fare il muratore e non sa il suo mestiere e ovviamente finisce male e allora le cose utili le cose scientifiche si studiano o si studiavano agli istituti tecnici e le cose inutili diciamo così che servono semplicemente appunto a fare cultura e non a fini pratici si studiavano nei licei quindi questa divisione che spesso si continua a fare tra i licei e gli istituti è una cosa che bisogna prendere un po' con le pinze bisogna stare attenti a sapere da dove arriva che cosa c'è dietro e sapere che forse la vera riforma della scuola che non si farà mai in Italia e purtroppo sarebbe proprio quella cioè di togliere queste divisioni oggi le divisioni non sono più così nette molte scuole oggi si chiamano licei per esempio liceo linguistico liceo artistico e così via che non rientrano in quella divisione antica appunto di gentile però la cultura la divisione delle culture deriva di lì e mi vuole dire e con questo finisco appunto che spesso questa divisione delle culture è più qualche cosa che viene praticata dagli umanisti che non praticata dagli scientisti perché? perché è ovvio che se uno fa un istituto tecnico oppure studia all'università matematica ingegneria eccetera poi non per questo non va a vedere le mostre di pittura non va al cinema non va ai concerti di musica e così via cioè fa quello che fanno tutti gli altri il problema degli umanisti è che loro quello fanno ma poi raramente un umanista si preoccupa di sapere che cosa c'è nella cultura scientifica mentre invece quasi tutti gli scientisti o molti di loro si preoccupano di sapere che cosa c'è nella cultura umanistica ed è per questo che poi gente come Montale Quasimodo Gadda eccetera possono diventare i letterati di riferimento anche senza aver fatto il liceo perché in realtà uno che fa le scuole tecniche poi non crede che c'è solo la tecnica spesso invece chi fa le scuole umanistiche crede o meglio sa che la tecnica c'è ma la considera qualche cosa di second ordine e sì certo è pratica ed è utile e molti dei filosofi invece anche di quelli che vanno per la maggiore da Severino Galimberti Cacciari in giù la pensano esattamente così quindi in realtà le due culture in tutte e due questo discorso aveva poco a che fare con la scienza negata ma parte della negazione della scienza deriva proprio dall'ambiente umanistico purtroppo perché questo disdegno che c'è nei confronti della tecnica e della scienza che sta dietro alla tecnologia e poi alla fine porta a queste idee bislacche di dire ma intanto quelli raccontano soltanto delle storie e poi soprattutto con l'idea democratica che ciascuna adesso questo è più che altro un prodotto tecnologico della rete e dei social media che ciascuno ha diritto di avere le proprie opinioni e la mia opinione vale quanto quella di un premio Nobel alla fine si appiattisce tutta la nozione di verità e invece non si capisce che la scienza non è democratica non è democratica perché non è così che si decide qual è la verità scientifica non è che ci sono 50 scienziati in una stanza alzano la mano e a maggioranza si dice qual è la legge di gravità per esempio o la legge del moto no non è così perché ci vogliono dietro da una parte delle teorie di tipo matematico che corroborino queste leggi scientifiche e dall'altra parte degli esperimenti invece tecnologici che le confermino oppure le refutino ed è un atteggiamento molto diverso che è difficile da capire da coloro da parte di coloro che non sono abituati a questo metodo detto questo io però poiché ho fatto un'unica frase senza mai respirare ho bisogno di respirare molto quindi lascio a voi l'educazione